ora voi capite perché mi viene da alleggerire parlando di guerra guardate, guerra che faremo, guerra che faremo perché sti tre hanno voglia di giocare a risico tu mi dirai abbiamo sempre giocato a risico e prima a giocare a risico siamo stati noi con l'impero romano eh guardate come eravamo espansi ve lo ricordate no? cioè tu andavi in inghilterra e ti dicevano me goioni capito? il vallo di adriano era il vallo di celentano il piatto tipico tedesco erano gli strascinetco cime dei rep e a parigi sentivi oh allunga me sta bagnota ed è così che è nata la baguette cioè proprio allungando la pagnota cioè l'obiettivo è sempre stato conquistare i territori no? ma anche senza armi eh basta usare i notai al posto dei mortai basta comprare case guardate questa è la Versiglia negli anni 80 se tu andavi in Versiglia in tutte le villette ci trovavi i fiorentini, i milanesi, i torinesi i genovesi no perché non le villette costavano troppo comunque poi a un certo punto si sono riempite così tanto di russi che la Versiglia è diventata una succursale del Cremlino a Milano 30 anni fa il Qatar non lo conosceva nessuno lo dovevi cercare sull'Atlante adesso lo devi cercare nei rogiti perché si sono comprati in mezzo a Milano vai a Prato e sembra di stare a Pechino guarda qua perché è così l'uomo è un animale gli piace la conquista e se non e se non sei fra i colonizzatori sei un colonizzato è ovvio ed è Europa che ha colonizzato per secoli adesso sembra come quei passanti ignari che si trovano in mezzo a una rissa sai da una parte Top Gun dall'altra Bruce Lee e stiamo stiamo prendendo sberle da tutte le parti e ne prenderemo ancora di più per sti cazzo di microchip stiamo andando verso l'intelligenza artificiale che prenderà le decisioni al nostro posto quando l'intelligenza artificiale avrà una sua coscienza si chiederà ma davvero mi hanno inventata sti coglioni i microchip ma non potevamo fermarci alla candy guarda che bella salavatrice la candy grazie candy la caricavi cazzi mettevi il detersivo la facevi girare la svuotavi se ogni tanto perdevi un calzino ma non è che le rischiavi la terza guerra mondiale perché la cina voleva impossessarsi della tecnologia del prelavaggio la 500 fiat ve la ricordate guarda che bella non aveva l'elettronica non era intelligente ma era quasi umana aveva un'anima se sbagliavi la doppietta con la frizione urlava e dicevi scusami cinque era la meccanica quattrocioide ferrovicio la meccanica perché non ci siamo fermati lì alla meccanica poi purtroppo il 6 marzo del 1983 40 anni dal primo cellulare motorola così un telefono in tasca ci ha cambiato la vita eccolo lì il primo costava 10.000 euro e pesava un chilo come ingombro era più comodo trascinarsi dietro la cabina del telefono se provavi a infilare una tasca dei jeans dovevi prima toglierti il culo perché se no non ci stava dovevi scegliere cosa portarti appresso o uno o l'altro ma quello era un telefono sapevi a cosa ti sarebbe servito era facile come la lavatrice lo dico alla generazione Z che non c'era per i primi due anni le conversazioni erano così mi senti? io ti sento stiamo spendendo troppo ciao invece adesso le macchine sono così intelligenti che garante privacy smartphone attenzione al microfono sempre acceso di notte fai due volte la pipì il giorno dopo su Instagram hai solo pubblicità di prostamol no perché se non ti spia il cellulare lo fa l'orologio che ogni tanto mi avverte a quanto pare ti stai allenando a quanto pare tu non mi conosci perché vede il polso che va su e giù stavo affettando il culatello e il giorno dopo su Instagram il giorno dopo su Instagram ho solo pubblicità di affettatrici io ve lo dico no ve lo giuro dovevamo fermarci prima prima di Siri prima di Alexa prima di ChatGPT ChatGPT il tool di intelligenza artificiale che scrive al posto nostro i testi ormai li scrivono gli algoritmi no? gli autori ormai non servite più ChatGP sul foglio per 30 giorni piccoli testi scritti dall'intelligenza artificiale sul nostro giornale il foglio gloriosa testata fondata da Giuliano Ferrara pubblicherà tutti i giorni per un mese un articolo scritto da un algoritmo che è buono perché così vuol dire che fra tutti almeno un articolo leggibile ci sia no no era una battuta no no foglio friend no scherzo io mi dissocio da questa battuta non è mia la scritta l'intelligenza artificiale comunque siamo già arrivati qui guardate padre Pio chatta grazie dell'intelligenza c'è un algoritmo ha studiato tutti i discorsi di padre Pio migliaia di pagine lo sa Marcio e ora è in grado di rispondere come se fosse lui la prossima evoluzione sarà vedere padre Pio giornalista del foglio sono io no ma no no sono io che sono vecchio sono antico sono un boomer io sono non sono pronto neanche per il salto quantico che credo faccia ribaltare il tempo il salto quantico è una roba complicata che solo un fisico teorico come Carlo Rovelli può spiegarvi ma non ora non adesso non adesso Silvano Belfiore grazie a tutti